La costa nord del parco San Bartolo, ore più sicura, installata la seconda telecamera antincendio, a Gabicce e Mario. Temporali di forte intensità, vento e grandine, scatta l'allerta arancione della protezione civile per la giornata di domani. Si trova alla foce dell'Arzilla, il punto più inquinato della costa della provincia di Peso e Urbino, lo hanno accertato i tecnici di Goletta Verde. A Bellocchi di Fano torna il paese dei Balocchi, l'evento dedicato ai più piccoli ma anche ai più grandi. Dal 17 al 20 agosto tante iniziative tra laboratori, musica, buon cibo e divertimento, sindaco della manifestazione Pino Insegno. Dal 4 al 6 agosto al Via la Festa del Mare di Fano, tre serate ricche di musica e di stand gastronomici. Domenica sera la conclusione con lo spettacolo pirotecnico. Alla chiesa di Santa Maria Nuova torna il consulto appuntamento con il Festival Concerti Estivi d'Organo 2023, giunto alla 62esima edizione. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Apriamo parlando del Parco San Bartolo. È operativa la seconda telecamera del sistema di videosorveglianza intelligente contro gli incendi. Il nuovo sistema è stato installato a Gabicce Mare e controllerà la costa nord. Prosegue il progetto di videosorveglianza del Parco San Bartolo contro gli incendi dopo la telecamera installata nel 2021 presso il cantiere Rossini a Pesaro per monitorare il litorale fino a Fiorenzuola di Focara. L'ente Parco, grazie ai finanziamenti del programma trennale regionale Aree Protette, ha aggiunto una seconda telecamera, questa volta a nord, installandola sulla sommità della struttura del Mississippi, a Gabicce Mare. Abbiamo chiuso il cerchio da Gabicce fino a Pesaro, quindi la costa del Parco è presediata. Ci saranno altre iniziative, altre attività da fare, anche la prefettura ci ha consigliato di sistemare degli invasi, chiaramente parlando di pubblico c'è una burocrazia da rispettare, dovremo modificare il regolamento del Parco del San Bartolo per creare degli invasi, rivedere gli sfalci che la provincia deve fare sulla strada provinciale e quindi ci saranno ulteriori altre iniziative per poter scongiurare quasi totalmente il rischio di incendi. Una telecamera di ultima generazione in grado di unire le potenzialità di un controllo ottico a quelle date dall'analisi termica. In caso di incendio il sistema lancerà un allarme alla centrale operativa di una ditta di vigilanza del territorio che eseguirà un'ulteriore verifica da remoto. Se necessario verrà inviata una pattuglia sul posto e attivata una segnalazione alle forze dell'ordine preposte allo spegnimento degli incendi. Questa nuova installazione sicuramente ci aiuta a prevenire fenomeni di incendio che abbiamo visto recentemente in Sicilia e nelle nostre regioni meridionali piuttosto che in Grecia quello che hanno causato. Noi l'abbiamo vissuto 7-8 anni fa, un fenomeno analogo e crediamo che con questa tecnologia riusciamo a percepire in anticipo il rischio di incendio e quindi intervenire tempestivamente. domani è previsto un peggioramento del tempo nella nostra regione. Sentiamo allora qual è la situazione per le prossime ore nell'intervista telefonica a Francesco Rangiotti. Dopo la fase calda e stabile che ha caratterizzato questi ultimi giorni, nella giornata di venerdì avremo un deciso peggioramento del tempo, questo perché una saccatura di aria più fredda in arrivo dal nord Europa determinerà grossi contrasti con l'aria calda preesistente e quindi tenderanno a formarsi a partire dalle prime ore del pomeriggio di venerdì diffusi nuclei temporaleschi che dalle zone appennini, che dalle zone settentrionali della regione si sposteranno verso la fascia collinare e costiera. Proprio la zona collinare e costiera tra il Basso Pesarese, soprattutto l'Anconetano e anche la parte nord del Maceratese saranno i settori più colpiti da questo peggioramento dove appunto ci attendiamo dei fenomeni temporaleschi anche intensi, accompagnati da grandinate e anche da forti e improvvise raffiche di vento. Il tutto poi tenderà a scivolare verso sud e quindi nel corso della nottata di venerdì il tempo poi tenderà via via a migliorare, anche se nella giornata di sabato ritroveremo soprattutto nelle ore del pomeriggio ancora un po' di instabilità, in particolare sui settori interni e sulle aree centomeridionali della regione. Questo peggioramento porterà con sé anche dell'aria molto più fresca, infatti le temperature dalla serata di venerdì e soprattutto nella giornata di sabato diminuiranno anche di 8-10 gradi rispetto ai valori attuali portandosi al di sotto della media del periodo con un clima decisamente fresco. Il weekend appunto continuerà con un clima variabile, un'alternanza di sole e nuvole con ampie schiarite, tempo decisamente più stabile nella giornata di domenica ma sempre con un clima ventilato per venti settentrionali e temperature miti e abbastanza gradevoli. A tal proposito la protezione civile delle Marche ha emesso un'allerta meteo arancione per temporali, valida per tutta la giornata di domani venerdì 4 agosto. Passiamo alla cronaca, un incidente avvenuto nel pomeriggio di oggi sulla strada nazionale Flaminia a Cucurano di Fano. Secondo una prima ricostruzione un fanese di 58 anni che era alla guida di un ciclomotore T-Max è stato travolto da un'auto Ford K condotta da una cittadina svizzera di 34 anni. L'auto percorreva strada Don Rivelli con direzione Peso Rancona e una volta giunta all'intersezione sulla Flaminia non ha dato precedenza. L'uomo che era alla guida del motociclo è caduto scarrucciando fino al muretto dell'abitazione al civico 87 ed è stato poi trasportato al pronto soccorso di Fano in codice giallo. È rimasta in lesa invece la donna che era alla guida della Ford. Un altro incidente si è verificato intorno alle 17.30 in via Roma all'interno della rotatoria di Centinarola all'intersezione con via 25 Aprile. Coinvolti nel sinistro un ciclomotore Piaggio condotto da una fanese di 33 anni e una Fiat 500X con alla guida una donna di 32 anni anch'essa fanese. Secondo una prima ricostruzione entrambi i veicoli stavano circolando su via Roma in direzione mare. Una volta giunti alla rotatoria con via 25 Aprile e via dei condotti il motociclista ha avviato una manovra di sorpasso a sinistra dell'autovettura che stava uscendo dalla rotonda. A seguito dell'urto il motociclista è caduto a terra slittando terminando il proprio moto contro l'isola spartitraffico. Sul posto il 118 e la polizia locale per i rilievi di legge. Il comune di Cartoceto fa sapere che nella notte tra il 3 e il 4 agosto dalle ore 1.30 alle 6.30 su tutto il territorio comunale verrà effettuato il secondo intervento di disinfestazione contro le principali specie di zanzare. Sulle pagine social istituzionali si rende noto e si raccomanda per precauzione di tenere le finestre chiuse, ritirare il bucato e di tenere al chiuso gli animali domestici. Un nostro telespettatore ci segnala in via a Falcineto, a Fano, una serie di tombini danneggiati a causa del passaggio dei mezzi pesanti. Il segnalatore racconta che è una situazione pericolosa per via del rischio di danneggiare le auto e spera che si possa risolvere il prima possibile. È la foce dell'Arzilla il punto più inquinato della costa della provincia di Pesaro e Urbino. lo hanno accertato i tecnici di Goletta Verde che hanno monitorato tutta la costa marchigiana. Vediamo il servizio curato da Massimo Foghetti. Ha attraccato al porto di Fano la Goletta Verde, l'imbarcazione di Lega Ambiente con a bordo un team di tecnici che ogni anno conducono il monitoraggio scientifico delle coste italiane a caccia dei punti più critici. Raccolgono le segnalazioni dei cittadini e denunciano le situazioni che mettono maggiormente a rischio il nostro mare e la nostra salute. I risultati del monitoraggio delle acque sulle coste marchigiane sono stati presentati questa mattina durante una conferenza stampa che si è tenuta alla Mediateca Montanari. Abbiamo raccontato i risultati di 12 campioni analizzati. La metà di questi, quindi 6 campioni su 12 sono risultati non conformi a quelli che sono i limiti di legge. In particolare 5 di questi sono risultati fortemente inquinati. E in provincia di Pesaro Urbino qual è la situazione più critica? La situazione più critica è quella di Fano. In provincia di Pesaro Urbino abbiamo prelevato un campione presso il porto di Pesaro e uno presso la foce del torrente Arzilla di Fano. Il punto di Pesaro è risultato entro i limiti di legge, quindi nessuna criticità riscontrata, mentre per il campione di Fano abbiamo riscontrato un forte inquinamento. Quindi abbiamo instaurato un dialogo anche con l'amministrazione che ha già preso provvedimenti a riguardo. Oltre alla foce dell'Arzilla, fortemente inquinati, risultano i punti presso la foce dell'Esino, a Rocca Priora, a Falconara Marittima, alla foce del Musone e al confine tra Porto Recanati e Numana. Valori superiori ai limiti di legge sono stati trovati anche alla foce del Tronto, nella riserva naturale regionale Sentina di San Benedetto, alla foce del fiume Tenna, a Porto Sant'Elpidio, alla foce del torrente Valloscura, tra i comuni di Porto San Giorgio e Fermo. Ma lega ambiente non si limita soltanto ai rilievi sull'inquinamento delle acque, ma verifica anche lo stato della biodiversità, dello sfruttamento delle risorse ittiche e dello sviluppo delle energie rinnovabili. Siamo un pochino indietro in questa regione, la biodiversità si tutela sotto molti aspetti e con molte azioni, fra queste anche quella di istituire aree marine protette per arrivare a quella famosa soglia del 30% di territorio protetto a terra e a mare. Non ci sono ancora aree marine protette in questa regione, che invece militerebbe sicuramente molta più attenzione da questo punto di vista. Quindi la nostra richiesta è quella di accelerare sull'iter istitutivo di alcune aree protette che sono state già avviate per questa regione, ma il cui iter appunto si è fermato, per esempio l'area marina protetta del Connero oppure quella della costa picentina. Mettere a segno queste due aree protette significerebbe fare un grande passo avanti per questa regione che ha dimostrato di avere tantissime cose da dire anche dal punto di vista della conservazione e della biodiversità. Ci sarebbero dei provvedimenti da assumere nel settore della pesca, secondo lei? Sicuramente per quanto riguarda la pesca occorrebbe rivolgere maggiore attenzione a quel comparto della piccola pesca artigianale, ad attività come per esempio quella della pesca strascico, come per esempio tutte quante quelle attività che hanno impatti di perturbazione sui fondali marini. Assessora Fattori, la reazione di fronte alle analisi compiuti dalla Goletta Verde nel nostro territorio? La reazione è una reazione duplice, nel senso che non ci sorprende il fatto che ci siano dei problemi alla foce dell'Arzilla, lo sapevamo di contro. Sappiamo che la situazione è migliorata e quindi grazie agli interventi è una strategia che da dieci anni a questa parte l'amministrazione ha portato avanti e sta continuando a portare avanti. L'amministrazione sta facendo una strategia che va da un lato nella sensibilizzazione e nell'informazione, quindi abbiamo reso più leggibile i dati di bagnazione, abbiamo spiegato tramite un video che poi avete promosso anche come Fanno TV, come leggere i dati, dove vengono fatte le analisi e il video lo troverete sul nostro canale YouTube. Abbiamo promosso iniziative come Ocean Action, che quest'anno ha avuto la sua seconda edizione, che ha parlato della grande risorsa mare e di come tutelarla. Di contro l'altra strategia è quella pratica, quella che deve portare risultati. Ovviamente i risultati ambientali si hanno dopo anni, però iniziano ad esserci. Non a caso abbiamo acquisito la bandiera blu in un'ulteriore spiaggia. Cosa stiamo facendo? Abbiamo iniziato con la vasca di prima pioggia, proprio oggi abbiamo una riunione con i tecnici della Regione Marche per parlare di tutto il tema degli scolmatori e anche con il sindaco di Monbaroccio, persona con cui si sta collaborando molto bene. Quindi una strategia definita in vari passi che vanno avanti da dieci anni e non si stanno fermando. Si è svolto oggi pomeriggio negli uffici comunali un incontro interlocutorio tra il sindaco Seri, il vice sindaco Fanesi e Benedetto Mancini, imprenditore che è in trattativa per l'acquisizione dell'Alma Juventus Fano 1906. Mancini, accompagnato dai dirigenti Granata, Fano Pantaleoni, Carmelo Cogliandro e Luca Alessandrini, ha illustrato i progetti legati al Club Granata confermando che nei prossimi giorni completerà tutte le procedure burocratiche per rilevare la società calcistica. E ora apriamo la pagina dedicata agli eventi. Nel quartiere di Bellocchi a Fano torna il Paese dei Balocchi. Dal 17 al 20 agosto tante iniziative dedicate sia ai piccoli che ai più grandi. Ad indossare la fascia da sindaco dell'edizione 2023, Pino Insegno. Ha seguito la conferenza stampa Filippo Pucci. Sarà il talento il filo conduttore della diciannovesima edizione del Paese dei Balocchi, l'evento dedicato ai più piccoli che si svolge ogni anno nel Parco Bambini del Mondo, nel quartiere di Bellocchi a Fano. Questa mattina è stato presentato il programma delle quattro giornate 17, 18, 19 e 20 agosto. Un programma ricco tra eventi collaterali, laboratori, musica, buon cibo, divertimento, insieme alle storiche attrazioni della manifestazione che rendono omaggio alle avventure di Pinocchio, la balena di 11 metri, la casa della fata turchina, il campo dei miracoli, l'ucignolo e il parco di mangiafuoco. Il bagno del nastro il 17 di agosto con l'ospite d'eccezione. Abbiamo come sindaco di quest'anno, di questa edizione, lo riconosciamo un talento del suo genere, Pino Insegno, che verrà il giorno 17, preceduto dall'orchestra mosaico, che è l'orchestra giovanile del nostro territorio. Quindi questo è un po' il battesimo e il giorno iniziale. Spiegare che il tema di quest'anno è il talento, quindi riconoscere i propri talenti, riconoscere i talenti dei nostri figli, darsi, diciamo, superare la quotidianità con i talenti e con le nostre passioni. Parliamo anche di cose importanti e abbiamo degli appuntamenti significativi, sia il giovedì che il venerdì che il sabato. Come sempre, un occhio di riguardo è stato dedicato anche alla cucina. Noi poniamo molta attenzione, tanto da costituire anche all'interno del Paese dei Balocchi, un piccolo spazio slurp dove si parlerà di alimentazione. Però anche il cibo che si può mangiare nel Paese dei Balocchi è del cibo tradizionale, ma soprattutto abbiamo anche per quest'anno, ed è la prima manifestazione che l'ha portato in una realtà, e, diciamo, di manifestazione, l'Associazione Italiana Cegliachia che quest'anno verrà col suo spazio. L'evento poi si concluderà domenica 20 con lo spettacolo serale unico nel suo genere. Il must del Paese dei Balocchi è lo spettacolo finale che si svolge alle ore 23 della domenica, è organizzato da Alcmena Studio, quindi veramente uno spettacolo pirotecnico musicale che ormai molti conoscono e apprezzano e quindi vengono al Paese dei Balocchi anche per questo spettacolo finale. Per conoscere il programma completo delle quattro giornate è possibile consultare il sito bellocchi.org. È una bellissima festa che è stata un'idea geniale che sa mettere insieme divertimento, sa mettere insieme laboratori, sa mettere insieme spettacolo, sa mettere insieme anche valori e messaggi educativi importanti. È un evento che è per tutti, parte dai più piccoli ma anche per i più grandi. Quindi veramente un grazie all'organizzazione Paese dei Balocchi perché sono il vero valore aggiunto, il vero patrimonio di questo evento, della sua caratterità e dei suoi talenti. Da domani prende il via la Festa del Mare di Fano, tre serate ricche di musica con diverse esibizioni e di gastronomia locale con i piatti tipici della tradizione marinara fanese. Sentiamo i dettagli nelle prossime interviste. E allora siamo pronti per partire domani, venerdì 4 agosto, con la Festa del Mare. Quindi tre date, 4, 5 e 6 presso la Darsena-Giurgine, quindi finale di Via L'Adriatico, zona Faro, tanto per capirci, con tanti eventi e tanta tanta gastronomia. La gastronomia è soprattutto quella più tipica nostra, marinara fanese, nelle ricette più, quelle più tradizionali nostre del porto e della città di Fano. Ma oltretutto anche con tanti eventi collaterali. Quindi a partire da venerdì, presso la zona del porto, ci saranno i Rewind ad agliettare la serata. Questo durante la cena. Mentre a Lido, poi, seconda battuta, il DJ 7, Matteo Pietrelli, con il suo voice, diciamo così, Antonio Di Biase, di Radio Studio+. Poi passiamo al sabato, quindi al sabato, sempre durante la cena al porto, i Vitamina C. Mentre a Lido, in seconda battuta, un evento un po' particolare, un evento, diciamo così, speciale. Gli Zebra 3, i nostri amici, il gruppo storico, fanese, musicale, confieranno i loro 20 anni. Poi passare la domenica, che è un po' la serata clou dell'evento della Festa del Mare, anche perché attendiamo con ansia i fuochi che saranno appunto dal molo dell'Esippo. Domenica sera, presso il porto, Luca Vagnini e il suo gruppo i Target. Mentre a Lido, tanta animazione anche per i bambini, con Mattia Diamantini e la New Latin Academy. Ecco, quindi vi aspettiamo 4, 5 e 6 agosto. Festa del Mare, tanto divertimento e tanto buon cibo nostro della tradizione fanese. Ci aspettiamo domani, venerdì 4 agosto, fino al domenica 6 agosto, alle 18.30, presso lo stand gastronomico, in occasione della Festa del Mare, che si terrà lungo il viale di Riatico, vicino al Faro. Verranno proposte numerose ricette legate alla tradizione, tra cui le purasse alla poretta, i tagliolini allo scoglio rosso e la rostita, con il pescato dell'Adriatico. La rostita verrà preparata proprio dai marinai, dai pescatori fanesi, per dare proprio un tocco alla tradizione del nostro pesce dell'Adriatico. Sabato 5 agosto, in occasione della Festa del Mare, ci sarà il nostro concerto e noi siamo gli Zebra 3. e in occasione di questa bellissima festa che si tiene ogni anno a Fano, festeggeremo il nostro ventesimo anno di attività, quindi il nostro compleanno sarà. Quindi vi aspettiamo sabato 5 alle 21.30, per il nostro concerto Piazzale Seneca, Lido di Fano, ore 21.30-22. Vi aspettiamo numerosissimi, non mancano. Sabato 5 agosto, alla Polisportiva, alla combattente di Fano, si terrà una serata di beneficenza con cena e spettacolo dialettale, il cui ricavato sarà interamente devoluto alle associazioni Adamo, che si occupa di malati oncologici, ed Aima, dei malati di Alzheimer. L'evento è organizzato dalla combattente, con la collaborazione della CNA Pensionati Pesaro, dell'associazione Non Solo Donna e del gruppo Dialetto, Il menù sarà curato dai marinai di Fano, mentre lo spettacolo, denominato Mare Monti, con una panoramica del dialetto nelle sue varie dizioni, vedrà l'intervento di vari autori ed attori, come Elvio Grilli, Daniela Gregorini, Walter Trebbi, Stefano Snell Rovinelli, Tommaso Berloni, Claudio Pacifici, Massimo Gasperini e Paolo Parenti. Note musicali di Gianfranco Bacchiocchi. Ci spostiamo alla Sala Concordia del Comune di Fano, dove è stato presentato in conferenza stampa il programma dei concerti d'estate d'organo 2023. Riparte il 7 agosto alle ore 21.15, la stagione estiva dei concerti d'organo alla Chiesa di Santa Maria Nuova a Fano. Partito come rassegna, diventato con gli anni un vero e proprio festival. Ricco di appuntamenti e di artisti, che riconferma di anno in anno col suo ricco programma, il primato non solo nazionale, ma anche europeo. Giovani artisti, provenienti da diversi paesi, si esibiranno per sé venerdì consecutivi alla Chiesa di Santa Maria Nuova. Sempre più giovani si approcciano all'affascinante mondo dell'organo, strumento non solo per una fetta di artisti e pubblico adulti, ma sempre più amato da giovanissimi. A testimoniarlo, il presidente Giovanni Maria Perucci, che da dieci anni segue il festival con dedizione Costanza. Direttore, la 62esima edizione è un gran traguardo per i concerti d'estate d'organo a Fano. Sì, veramente. Ne siamo fieri. È un traguardo, è un primato della nostra città. Per questo festival, che diventa sempre di più un festival, è appartito come una rassegna dei concerti d'organo, voglio chiamarlo festival, perché anche quest'anno, soprattutto quest'anno direi, oltre ai sei concerti in programma, ci sono diverse attività che contribuiscono a creare un clima di interesse verso l'organo. Ne cito solo alcune delle guide all'ascolto che si terranno in collaborazione con la Università dei Saperi Grimaldi, un workshop didattico, un laboratorio didattico dei ragazzi, dei bambini, monteranno un organo, cosa singolare, grazie alla collaborazione con Fano la città dei bambini, una mostra fotografica, la Memo, e delle visite guidate alla Pinnacoteca San Domenico, dove è presente un organo, e anche in questo caso, in collaborazione con la Fondazione, ci sarà un momento musicale organistico. Tante le attività e iniziative per questa 62esima edizione, che coinvolgono grandi e piccini con workshop e laboratori da far vivere la città di Fano a tutto tondo. Un incontro che a volte, visto da fuori, può sembrare un po' esclusivo, un po' più adulto, quando in realtà vede un'età media abbassarsi, grande risposta anche da fuori, e una proposta assolutamente interessante. In particolare, sono rimasta affascinata dal laboratorio che si terrà il 5 agosto per i bambini in cui si costruirà un organo. E questo è un laboratorio bellissimo, a fatto scontato, che aiuta ad avvicinarsi alla musica. Ma poi, tanto altro, avremo dei concerti guidati da maestri d'organo di età giovanissima e professionalità altissime. Abbiamo anche giovanissime professionalità di alto livello nella nostra Fano che ci aiutano all'interno di questo evento. Perché ricordo che noi abbiamo il maestro Davide Omiccioli che comunque suonerà alla Pinacoteca San Domenico dal 5 al 12 agosto. E poi abbiamo anche le guide all'ascolto tenute dal maestro Tiziano De Felice che tutti, in occasione di tutti i venerdì dei concerti, un'ora prima all'interno della sede dell'Università dei Saperi ci guiderà all'ascolto per poi godere al meglio. Questi sono tesori che abbiamo a Fano che ci aprono verso fuori e che non dobbiamo dare per scontati e dobbiamo goderceli. All'Arena BCC di Fano prosegue la rassegna teatrale dialettale. Domani sera sarà la volta della compagnia Farò Follia. Siamo con la compagnia Farò Follie e andiamo subito a cercare di capire quali follie farete invece sul palco. Ma le follie facciamo di tutto sul palco. L'importante è di far ridere alla gente. Sono 10-15 anni che facciamo ridere con il nostro gruppo Farò Follie. 10 anni che siamo qui nel giro. Fino adesso abbiamo fatto sempre ridere. E sicuramente sarà anche con questo spettacolo. Dal titolo? Pillole di comicità. Non a caso abbiamo scelto questo termine perché pensiamo che la medicina forse più funzionale più efficace per il morale per la salute per la psiche sia proprio ridere e divertirsi noi e far divertire il pubblico. E quindi sarà un insieme di gag questo spettacolo? Sì è un insieme di gag dove faremo ognuno di noi farà la sua parte e noi cerchiamo sempre di far divertire le persone non vogliamo dare nessuna dimostrazione di saper fare vogliamo solo far ridere e far divertire le persone. Allora invitate voi il pubblico di Fano TV. Venite ai nostri spettacoli qui a Fano siamo venuti già altre volte abbiamo avuto successo e soddisfazione speriamo ancora di essere a voi graditi con i nostri sketch comici quindi già da ora buon divertimento. Subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato all'inaugurazione della nuova filiale di Calcinelli della BCC Fano e la presentazione del libro Calcinelli La storia e le storie. Vi ricordo un attimo devo rifare qualcosa sbagliato. La storia e le storie. Ok.